La truffa dei lavori post-sisma nel Terramano colpisce anche Isola del Gran Sasso. A distanza di alcuni anni dall'avvio dell'inchiesta a firma del PM Stefano Giovagnoni, cui si devono altre indagini come quelle sulla presunta truffa a Canzano, corropoli e controguerra per lavori pagati con fondi pubblici, ma per riparare lesioni che, secondo la procura, non dipendevano dal terremoto aquilano, arriva il rimio giudizio. Il Gup Giovanni De Renzi si è mandato a processo per una presunta truffa a Isola del Gran Sasso. Tre imprenditori, Alessandro Trasatti, 36 anni, Domenico Vanni, 67 anni, accusati di reati di truffa e tentata truffa, e poi Dante Trasatti, 68 anni, padre dell'imprenditore Alessandro, dipendente comunale in servizio ad Isola, imputato per abuso d'ufficio. Nel corso delle indagini, il PM Giovagnoni aveva chiesto ottenuto il sequestro preventivo di 90.000 euro sui conti correnti di uno degli imprenditori, finalizzato alla confisca per equivalente, una volta definita tutta la vicenda giudiziaria. Nel caso di Isola del Gran Sasso, però, secondo l'accusa, le lesioni c'erano ed è stato provato anche il nesso di causalità tra sisma e danni, ma sarebbero stati rimborsati i lavori inseriti nel computo metrico dell'opera, senza però essere mai realizzati. Quindi, secondo quanto sostiene la Procura, sarebbero stati erogati fondi per lavori mai fatti. Il dipendente pubblico, all'epoca dei fatti responsabile della ricezione delle domande per i danni del terremoto, è indagato per abuso d'ufficio. Secondo la Procura di Teramo, non avrebbe rilevato alcune irregolarità nelle domande presentate dai privati che si erano affidati all'impresa del figlio. Sotto la lente di ingrandimento della magistratura Teramana, che aveva delegato le indagini alla Guardia di Finanza, sono finite in tutto 193 pratiche, ma soltanto 51. Sono poi arrivate all'esame del consulente nominato dalla Procura. Il processo sulla presunta truffa di Isola del Gran Sasso inizierà a settembre.